Un infermiere preleva le sacche per la consegna, un collega inizia sul paziente l'infusione della prima, altri due sanitari, un infermiere ed un medico, controllano sei giorni dopo che la terapia prosegua regolarmente, ma nessuno si accorge che quelle sostanze che venivano somministrate per la nutrizione artificiale erano scadute da quattro mesi. Se ne renderà conto il paziente, quell'Emanuele Scifo gravemente ammalato, per il quale l'anno scorso i salernitani si sono mobilitati in una gara di solidarietà, nel tentativo di consentirgli un intervento salvavita negli Stati Uniti. Nel giugno 2011 era già sottoposto a una terapia domiciliare con l'alimentazione parentale e fu lui, dopo averso offerto per giorni di coliche addominale e febbre alta, a notare che la scadenza riportata sulle sacche risaliva a febbraio. Per quella vicenda sono adesso a processo in cinque. Antonio Cerrone, di Campagna, che in quel periodo sostituiva il caposala nell'unità operativa dell'ASL per le cure domiciliari nel distretto di Battipaglia e che prelevò le sacche mettendole a disposizione di chi avrebbe eseguito la terapia. Gian Carmine Ferrara, di Olevono sul Tusciano, l'infermiere che il 18 giugno portò gli involucri a casa di Scifo e iniziò la somministrazione. Il medico Luigi Caputo, di Salerno, e l'infermiere Antonio Abbenante, di Roccapiemonte, che sei giorni dopo controllarono il paziente e una sacca in infusione senza vedersi della data di scadenza. E il dirigente dell'unità per le cure domiciliari, Aniello Ambrosio, di Ponte Cagnano, accusato dal sostituto procuratore Maria Carmela Polito, di non aver assicurato il puntuale e diligente rispetto delle procedure necessarie al corretto funzionamento dei servizi domiciliari, di somministrazione delle sacche di nutrizione parentale, in modo che fosse garantito il controllo della qualità e salubrità del prodotto nutrizionale.